precedente tenuta fino al 2021 con la versione però autunnale nell'inverno. Auguriamo una buona conclusione di giornata, un buon proseguimento più che altro alla direzione delle gare che andiamo affidata ai signori Ferrari e Clementi come direttore aggiunto. Un buon lavoro anche ai comandanti di vascello della salute di tutti noi qui presenti a Salute Gatacarting in questo oceano della sanità e sono i dottori Leonardo Gazziano e Ettore Bonerrigo. Un buon lavoro anche al LS Timing che ricordiamo è protagonista qui in pista con Lorenzo e Irene. Ricordiamo anche il collegio dei commissari sportivi con i signori Goldoni dall'Emilia Romagna, il signor Boretti dalla Lombardia e la signora Acerbi sempre dalla Lombardia. Mentre per quanto riguarda il lavoro dei commissari tenici il collegio è composto dai signori Somera dal Lazio, il signor Rubino e Mazzanti e Bologna dalla Lombardia. Per quanto riguarda l'organizzatore, il South Gardacart, ricordiamo la segretaria di gara la signora Scaroni insieme al signor Ficarra addetto al race control. Chiaramente la famiglia Corberi che ormai da più di 27 anni, abbiamo detto come appena saltato un'edizione, organizza la Winter Cup. Ricordiamo, prova di apertura nel calendario CICFIA nel contesto internazionale. Un saluto particolare va sempre agli amici, i commissari percorso, i Marshall, il gruppo di Maurizio che vedremo all'opera anche in questo pomeriggio per la prima competizione internazionale della stagione 2023, una stagione che andiamo a inaugurare con un palido sole di inverno. Le temperature sono state proprio quelle invernali e c'è stata anche una nevicata nella giornata di giovedì. Quota rosa sia nel personale sanitario che nei commissari di percorso, addirittura un pilota di moto. Ce l'abbiamo qui in pista e noi rivolgiamo lei, un caro saluto. So, ready to go ahead with the timetable this afternoon. We will have five finals in live streaming by satanitv.com, the Italian agency. So, the timetable will have the mini group 3, just immediately in the track, which we have to see, and the back the final of mini group 3 under 10, the back OKJ, OKJ 5-2-3, group 3 under 10-2-25, OKJ 5-3-0-5, and the KZ-2-3-40. This is the timetable, 10 laps for the group 3, 18 laps for the OKJ, 22 laps for OKJ, KZ-2. Abbiamo dato distanze e il programma in lingua inglese, eccola lì la quattro rosa dei Marshall, la nostra Fedra, detta Lulu, che espone il cartello dell'Un minuto via. Un minuto via, andiamo a riassumere velocissimamente lo schienamento partenza dei 36, Roland Nagy Slovakia e Young Oguzai in last row. In row number seventeen, Matvei Dergunov in the right side, Sofia Povacinaia, the only one pink driver, Baby Race, Parolin Yame, number five, five, four, for the Finn, Pink Kid. Row number sixteen, Michele Orlando, l'ultimo dei italiani con il numero 5-5-7, Formula K ufficiale, ricordiamo che sono stati 26 bambini esclusi dal Superheat che abbiamo seguito questa mattina in diretta streaming. Di fianco Michele Orlando, Ior Keidon, l'Ukrainian Borsch Racing 516 EKS Lenzo Algin. Devin Walsh from USA, Baby Race Driver Academy, Parolin Yame, five, four, nine. In right side of the USA Kid, Daniel Kutskov, Parolin Yame by Baby Race, so two teammates, the kids, five, six, six, the race number. In front of Kutskov, Oleksandr Leganki, Team Driver, Iar Keidon Yame, five, seven, three, five, one, seven. From Czech Republic, Zdenek Babicek, Parolin Yame by Tepje Racing Team. In front of Babicek, Luigi Cocchianella, EKS TM del Tingamoto numero 529, di fianco Cocchianella, on the right side of the Italian Cocchianella, the Swiss Aldertan, Parolin Yame by Baby Race, five, six, seven, five, one, or the Slovakian Alex Molota, a.k.a. STM, Firefly Racing Team Slovakian as well. Bogdan Cosma, dalla Romania, Cat Republic, Yame, engine, Team Driver 537. Divanti a Bogdan Cosma, siamo in undicesima fila, Bautista Panetta, Argentina con licenza italiana, Gamoto, il team EKSTM, 528 numero di gara. Di fianco a Bautista Panetta, Riven Esteves, the strongest Swiss kid of Baby Race, five, five, three, Parolin Yame. In front of Esteves, Karar Firand, Indonesian KR, Yame engine 544 by Kidix, so this means Alonso, in the left side of Firand, Giammatteo Russo, Alonso as well, compagno di squadra, Alonso Yame, 541. Arias Boskov, dalla Spagna, 555, Team Driver, Cart Republic Yame. Kasper Raipol, Poland, Lenzo Kart Official, 546, go ahead, row number eight, Liuboslav Ruikov, Bulgarian, 530, KR Yame by Team Driver. Noa Baglin, pay attention to this Britain Kid, 521, KR Yame by Britain Team iKart. E poi il quartetto di italiani, 522, Pietro Bagutti, Parolin TM, AV Racing, Valerio Viappiana, 533, Cart Republic Yame, Team Driver. Formula Cup Ufficiale, 538, Lorenzo Lomico, Matteo Melis, KSTM del gamoto 524, pronti al via, buona la prima, e vediamo che è un ottimo scatto, Ilia Baiereskin, dalla prima fila, 536, ma è Dean Hugendorf, the Dutch winner, 2 Super 8, 540, Alonso, Yame by Kidix, Leading, second place, Baby Race, Yame, Parolin Yame, 552, the Turkishian is Kenter, Sulficari, add the knife, third is a Baby Race, this means Kylan Harvick, maybe the USA, or Mariano Lopez, will be recognized back, place number four, will be recognized, Alonso by Kidix, Ilia Baiereskin, for sure, e Baiereskin in quattro posizioni, dietro Baiereskin, vediamo un AV Racing attaccato da uno dei blu del Team Driver, quindi un primo giro, ancora tutto in assestamento, per la prima volta al Pettine, siamo già al centro del Pettine, con Hugendorf, oh Bereskin, we will see, we will see Bereskin should be in place number four, Alonso by Bereskin, Team Driver, so Hugendorf, Sulficari, Harvick, that's why Harvick, in place number three, Teo, the Malaysian Travis Teo, this is Alonso by Kidix, in place number four, then Zeyushan, the Chinese with the Parolin White, Red and Black by Avodensi, Bereskin in place number six, il quartetto degli italiani, e dietro a quei tre ai piloti che stiamo vedendo inquadrati in questo momento, Sofia Povacinaia, 35, we remind that the start is not a strong step for the young kid Finn, il quartetto degli italiani, abbiamo Bagutti ottavo, Melis nono, poi D'Amico partito male, sedicesimo Luigi Cocchianella, ventesimo, il quarto italiano è Pietro Bagutti che non vediamo, eh sì, ottavo invece, ottavo Bagutti, nono Melis, e poi più indietro D'Amico e Cocchianella, il quarto del quartetto è Via Piana che non è nella prima pagina, purtroppo, se terzo giro in questo momento andiamo a seguire Hugendorf, their Hugendorf, followed by Sulficari, have a look at the knife, andiamo a vedere al coltello come si presentano, ecco il tazzetto di testa, Hugendorf, Sulficari, the dangerous, Kylan Harvick from USA, another one dangerous, English with the English language, is Noah Bagli, number 3-2-1, Pia Piana, il Mantovana, Passato, 22 years old, Spide Luigi, Cocchianella, Noah Bagli, not a good start for the big team, is only 14th, back the Peruvian Lopeth, that is in place number 13. So, Hugendorf leading, Sulficari in second, and Harvick in third, two teammates of Baby Rays together, in second and third place, back the only one, Alonso by Kiviks, driven by the Dutch, Hugendorf, Bereskin e Bosco, hanno intanto superato Bagutti, il migliore degli italiani, intanto out, 5-2-9, e out, purtoppo, Luigi Cocchianella, da via abbiamo visto il suo EKS del Team Gamotto, recuperato proprio dai Marshall, Hugendorf, Soficari, Harvick. il primo italiano di licenza e di nazionalità, abbiamo Cocchianella, purtroppo fuori, via Piana, quindi guadagna una posizione. Harvick è il primo giro veloce, incontriamo il primo italiano di nazionalità e licenza, e Pietro Bagutti, in donna posizione, con numero 522, Parolin, TM della Avo Racing. In the middle of the Pettinas, Hugendorf, Sulficari, and Harvick ready to close. They are ready to close the lap number, lap number 4. Maybe one penalty, maybe we will see one penalty. We wait the info from the overlay, by TV director. Aspettiamo informazioni dalla regia, con Cugendorf, Suficari, Harvick, al coltello, poi si intravede il malese Travis Tio, Cocchianella è l'unico ritirato, Sofia Povacinaia, trentatresimo, la quota rosa, Stedin, Babicic, ventinovesimo, poi abbiamo Via Piana, che entra nella prima pagina, ventesimo, Lorenzo D'Amico, ricordiamo, autore del miglior tempo, nel prova di qualificazione di venerdì, in diciottesima posizione, e intanto abbiamo la conferma, abbiamo visto un pilota scendere, scorrere tutta la schermata dei cronometristi, e finire seconda pagina, cinque secondi di penalità a Ilia Bereskin, 5 secondi di penalità, quindi questo significa che Bereskin, in realtà il quattro, nel trattato, è in place numero 19, questo è incredibile, Via Piana scende in ventunesimo posizione, poi abbiamo Michele Orlando, trentunesimo, qui stiamo seguendo il terzetto Hugendurm, Zulfi Kari, e Hardwick, Ivanikov è tornato, tornato Tio, e tornato Bereskin, quindi vedremo cosa succederà nella seconda alfa, in questa finalità, il lap numero 6 è completato, quindi 4 lapi per andare, quattro giri da comprare, Ivanikov in quarta posizione, ricordiamo, Ivanikov, uno dei nomi da seguire, per questa, per questa, finale, sta recuperando, Hugendurm, leading Zulfi Kari, second, Hardwick third, ancora Via Piana ventunesimo, vediamo bandiere italiane, solo un ritiro, intanto vediamo dalla, dalla grafica che lo spagnolo Bosco, numero 5, 5,5 è l'autore del nuovo giro veloce, sesto Bosco con 53,107, 53,107, il pass-trap time, signed by the Spaniard, Bosco, in place number 6, on the ranking, 7th on the track, based on the penalty for Bereskin, 17th, iniziamo l'ottavo passaggio, Hugendurm, Zulfi Kari, Harvick, ricordiamo sempre i migliori italiani, Pietro Bagutti, alle spalle del britannico, Paglini, intanto Bautista Panetta, perde quattro posizioni in un solo giro, e cambia, come ci sta indicando l'Andrea Africa, all'autore del giro veloce, torna a essere, come già nella sua super-hit, il peruviano Mariano Lopez, 52 secondi e 938 millesimi, ricordiamo che proprio lì ha stabilito il migliore leggero di gara, intanto la S si affaccia, si affaccia Zulfi Kari, Zulfi Kari tries to attack Ugandurna, and the back Harvick is ready to overtake the teammate, two more laps before the shaker flag, ancora due giri prima della bandiera a scacchi, Huggandurna, Zulfi Kari, Harvick, vediamo Melis intanto, è lui il migliore degli italiani, l'avevamo un po' saltato in favore di Bagutti, in realtà Melis, sempre sta trovando la top ten, ed è ancora nella top ten decimo, superato da Bogdan Kosman, precede il britannico Noah Baglin, che ha superato intanto Lopez, con lo stato il giro veloce del peruviano, non si mantiene nelle posizioni alte della classifica, ecco il trenzetto che lascia lo scollinamento, cambio di direzione, andiamo verso l'esse, e poi avremo il penultimo pettine, sembra che nulla possa cambiare, giustamente per un stato incondizionale, sembra, it seems that nothing will change before the shaker flag, but we have the final lap to run, so have a look, just immediately, now, Hugen Doorn, Zulfi Kari, and Harvick, and, Bereskin, is, is, catching up, Bereskin, 15, in front of Giammatteo Russo, andiamo, eccoci, verso il coltello, si gira, Hugen Doorn, the Dutch kid, looks back, Arias, once more, best lap time, fifty two seconds, and eight five two, so, the hill, change of the way, and, S, siamo la S, vediamo se Zulfi Kari, Harvick, andranno ad attaccare, Hugen Doorn, per l'ultima volta nel pettine, Hugen Doorn con 314 millesimi di vantaggio, può, poteva gestire questo ultimo pettine, guardate, però Zulfi Kari, le sta provando tutto, e Hugen Doorn chiude, e andiamo alla fine con l'inside by inside, Harvick, have a look to Harvick, and no, Zulfi Kari, the winner with the final rush, Zulfi Kari, winner, second place, for the teammate, the USA, Kieran Harvick, started in play, in the slot, number seven, and only third, the Dutch, Dejan Hugen Doorn, fourth, the kid from Malaysia, we are speaking about, Travis Tio, place number five, out only, Cocchianella, place number five, for the Spanier Bosco, Bosco, author, the best lap time of this, of this final, fifty two seconds, and eight, five two, cinquantadu, tredicesimo, Panetta, ventiduesimo, vediamo il, poi, Via Piana invece è recuperato, ritirato Cocchianella, Michele Orlando ventottesimo, eccoli, Bagutti quindicesimo, D'Amico sedicesimo, Via Piana diciottesimo, diamo ora noi la linea alle premiazioni. quale, quale, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti